e adesso abbiamo qui a premiare Alessandra Marino noi sin dalle prime volte che abbiamo visto giocare abbiamo subito intravisto in te la grinta, la determinazione la fame nei tuoi occhi c'è qualcosa di diverso rispetto alle altre giocatrici mentre cerchiamo di metterti in posizione ottimale e allora e sei qui, ti abbiamo premiato perché premiamo la determinazione di una grande giocatrice Sì, io diciamo vengo da un infortunio quindi magari non giocare per un po' aumenta la voglia la grinta di vincere comunque di far bene sono contenta di questa partita perché all'inizio siamo partite un po' contratte poi dopo ci siamo sciolte abbiamo fatto il nostro gioco è andata bene Ti piaceva mettere in posizione utile della telecamera quindi ti sei trovata subito bene a Santa Teresa di delle prime battute Sì, sì, subito benissimo società, staff tecnico compagne tifosi tutto perfetto insomma venivi da un infortunio come hai detto tu quindi la società ha scommesso su di te perché sicuramente era un rischio portarti qua ci hanno creduto tu li hai ripagati e li hai ripagati con la grande fame agonistica che hai e riteniamo ad alti livelli la differenza a parità di livelli tecnici la fa la fame agonistica la voglia di vincere tu questa sicuramente ce l'hai Sì, sì, senza dubbio quella non deve mancare mai diciamo poi in palestra lavoriamo per migliorare altri aspetti però l'aspetto principale diciamo che deve essere sempre questo diciamo aver voglia sempre di vincere e di fare bene va bene ti consegniamo il premio casa del corredo ed è un guanciale della Plumex che è un che collabora in questa operazione è un guanciale particolare perché è uno l'unico guanciale che si può lavare si può lavare in lavatrice perché è formato con delle palline a fibra cava praticamente e si può tu spesso puoi lavare tutto ma il guanciale non si lava quasi mai perché si raggrinsisce questo è un guanciale che ha una struttura che può essere lavato in lavatrice ed è un'esclusiva della Plumex si può trovare alla casa del corredo a Santa Teresa del Riva noi te lo consegniamo grazie mille ti facciamo ancora tanti complimenti grazie e ci piace la tua grinta continua così perché sei sulla strada giusta grazie grazie alla prossima arrivederci